Partiti. Subito appunto in attacco di Nadia Trio che ha superato Nubolor. E' più di terzo, va a completare i due cento iniziali. In 15.8, seconda posizione per Nadia Trio, poi Nubolor. In quarta posizione in nero di Gini Falco. Gli altri a seguire, cappeggiati da Jerry Diamond. Tanto i primi quattro cento in 32.1 all'esterno invece Nudrim Rex. Grazie a tutti, c'è l'anticipo di Jerry Diamond che avanza dopo 600 metri completati in un tranquillo 48.6. C'è il suicino a frazione in curva e avanza così Jerry Diamond. che avvicina Nadia Trio in seconda posizione. Tanti a tutti i compretti ZS, terza posizione per Nubolor. 800 iniziali in 1.4.4. Si affronta così la curva che porterà completamente del chilometro. percorsi esterni anche in un fotogai. Comportamento del volumetro iniziali 1.19.7. Si è depresa quindi con tranquillità. E a PZS, quindi c'è tra la frazione sulla curva. Ora siamo all'occupamento dei tre quarti di miglio. Jerry Diamond sempre proteso all'esterno di Nadia Trio. Si trascina Nudrim Rex, quindi due penalizzati di Nufato Gai e Nobel Northrop. Trascina ancora in 15.3. Davanti alle tribune si affrontano gli ultimi 600 metri di gara. parziali in 14.8 ora. Jerry Diamond coraggiosamente ha il scialti di FZS a 500 dall'arrivo. A contatto rimane Nadia Trio. Poi Nubolor, ancora Duprim Rex, che scatta un terzo corsio da parte di Nufato Gai, che viene via spedito a 3.4. Sì, è in un atto. Completamente della curva, ingresso in diretta da riga, PZS in testa. La scatta all'interno di Nubolor, all'argo. Ci trova anche Nadia Trio nel finale. Nadia Trio passa su PZS e lo batte in precisione.